Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un stewedale che si tratta di volta all'antiquità o all'ascolto medioevo. Iniziamo con gli ingredienti. Per primavera necessitiamo il cuore, il vino di riciclino, il vino di garum, il vino di rosso, l'olio di oliva e le spezie, il pepe lungo e le pepe di baleurre, e poi un po' di rua. Per primavera aggiungiamo un po' di olio di oliva e garum e cuociamo il vino di riciclino per circa 15 o 20 minuti, depending on the size. Il pepe era uno dei piatti più comuni durante il medioevo, come in Roma antico, e è per sempre il pepe più usato in ricette di vinidaria. Vi consigliamo di eseguire il cuore di pepe che preferisci, per esempio pepe o colla. La ricetta è usata per tutto il pepe, come la maggior parte delle ricette antiche e early medievali. Il vero latino, porcellus, riferisce all'antiquità intermedia tra i pepe e il pepe adulto. Inoltre, riprendiamo il pepe lungo e un pepe di baleurre nel mortaio. Questa ricetta è parte di una piccola collezione, titolata Apicexerta a Vinidario viro illustri, che significa queste ricette antiche di Apicexerta a Vinidario. Troviamo queste ricette in un manoscritto del VIII secolo, come un appendice alla Recoquinaria, ricetta antico ricetta romana, convenzionalmente attributato a Apicex. Non sappiamo molto sull'autore, excepto il suo nome, Vinidarius. scolari hanno pensato che potrebbe essere un po' e che queste ricette erano scritte durante il Recoquinaria d'Italia, tra l'inizio del V e la prima parte del VI secolo. La ortografia latina di Vinidario sembra confermare questa teoria, almeno su questo periodo storico. anche un po' degli ingredienti che usa sono consistenti con i primi secoli. Per esempio, Vinidario usa le pelle, una strada di acqua che usa nei primi secoli e senza ricette di Apicex. più oltre, Vinidario non distingue tra il Silphium Cirenaicum e il Particum, diverso da Apicex. Possiamo deducere che nel suo tempo il Silphium Cirenaicum non era più prodotto. All'altra parte, il stile delle ricette e la maggioranza degli ingredienti sono praticamente la stessa usata in Apicex, ma spesso le ricette sono semplici e con meno ingredienti. Le ricette di Vinidario sono simili alle ricette della Recoquinaria, ma con differenze e interessanti significativi. Ora finiamo la ricetta. La ricetta è l'unica erba fresca usata in questa ricetta. Infatti, Vinidario spesso utilizza meno erbe fresche che Apicex. Se non avete una ricetta, potete sostituirlo con un'altra erbe fresca. Tra le ricette usate da Vinidario troviamo menta, cilantro o dill. Potete utilizzarli freschi o secoli. Non c'è sicurezza che Vinidario fosse un goth. Alcuni scolari deduciano che Vinidario sia la latinizzazione di un nome goth. Comunque, il suo nome può essere facilmente scelto da un parlato latino, come composto da Darius la traduzione latina di un nome di origine perciano e la signa Vini. La signa era una sorta di surname latino usata in forma genitiva, e Vini è la genitiva di Venus che significa vino. Quindi per un parlato latino Vini Darius significa esattamente vino Darius, e sicuramente a suo tempo non suonava come un nome goth. non so se questa interpretazione è corretta, è principalmente solo un esercizio etimologico, ma un nome come questo probabilmente suonava divertente a un parlato latino. Abbiamo aggiunto la roda nel mortaio e lo spaventano con le spezie. e lo spaventano con le ore e le ore e le ore e le ore appartengono frequentemente nella cucina antica romana, nelle ricette di Vinidario ci sono solo le ore e le ore sono absente dalla lista di erbe spaventate dall'autore. Durante le ore e le ore, come in Roma antica romana, il pepe lungo era più prezziato che il pepe nero e il pepe nero. Il pepe è ampiamente usato da trappiccio e Vinidario. Vinidario usa il pepe in quasi tutte sue ricette, ma non specifica che tipo di pepe usare. poi aggiungiamo il vino di risinio, un po' di garum e il vino di rosso. L'autore propone il carrenum come sostituzione per il vino di risinio. Il carrenum è ridotto dal pepe. Puoi prepararlo semplicemente cuocere il pepe, fino a ridurre da un terzo. Il carrenum era una salsa di pepe abbastanza usata nella Roma antica romana e era ancora usata negli anni Medici. Fu preparato con pepe e salto, a volte aggiungendo spezie e erbe aromatiche. Le suce di pepe moderno in Asia sono preparate in modo stesso modo come alcuni tipi di carrenum e puoi usare per sostituire il garum. Se preferisci, puoi usare solo due pepe di salto inoltre. Per quanto riguarda il vino, Vinidario specifia di usare il vino di rosso. Usiamo il pepe di pepe e lo mettiamo in un'altra panetta con la salsa. Lo cuociamo per altri 45 minuti. aggiungendo un po' di vino se la salsa ridurre troppo. Il tempo di cuocere cambia depending on the size of the pork loin or the other cut you chose. la descrizione sotto la descrizione trovate una lista di altre ricette da questo cuocere che abbiamo preparato negli ultimi mesi. il titolo di questa ricetta è Purcellum enococctum. Enococctum scritto con un A iniziale in Vinidarius proprio come in Recoquinaria è una varietà di enococctum con l'initiale O che significa cuocere in vino. In realtà questa ricetta è chiaramente un'imitazione di una ricetta più complessa di Apiccius con il stesso titolo in cui sono usati sia il vino e il vino di rosso. Nell'altro passaggio del ricettario convenzionalmente attribuito a Apiccius troviamo un po' servito con l'initiale cuocere in vino. Il po' è un po' di vino antico romano preparato con cereali di cuocere. Puoi comparare questa ricetta anche con la polenta. La polenta e il po' sono due prodotti antico romano usati anche durante il medioevo. trovate il link ai nostri video di parola e polenta spelti nella descrizione qui sotto. Quando la carne è cottura, lo rimuoviamo e aggiungiamo in pannella un po' di zucchero diluato in acqua. Quando la salsa tratta, è pronta. Il zucchero è uno dei ricettatori favoritosi nelle ricette di Vinidarius anche nella cucina antica romana. È interessante notare che Vinidarius, in un'altra ricetta, usa anche il grasso di pane. Quindi, se preferite, puoi sostituire il grasso di pane con il grasso di pane. In ricette di Vinidarius è una sostituzione storica storica. il grasso di pane con il grasso di vino. Questo sezio di pane è un esempio interessante della forteutilità delle ricette romano e ingredienti in pace nell'era cucina medievale. Se siete interessati in frutti e sapori, o siete solo cercate di ricette inusuali e deliziali, iscrivetevi al nostro canale!